Astag dateci voce. In questi giorni su RET3 è stato lanciato il programma Astag Maestri. 40 incontri con divulgatori, scienziati, professori. Programma indirizzato agli studenti per consentire loro di immaginare e programmare il futuro. Astag Maestri. Le donne ci saranno? Forse sì, ma il punto non è questo. Perché l'Astag le ha già cancellate, le ha eliminate dall'immaginario delle nostre studentesse e dei nostri studenti. E anche se ci saranno, loro non le vedranno più. E allora noi lanciamo Astag Maestre. Un esercito di donne, le maestre, dalle scuole elementari alle superiori, l'85% del personale nella scuola, due terzi di dirigenti, donne al vertice delle scuole, sono loro che hanno consentito in pochi giorni di immaginare il presente. Sono loro che hanno garantito il diritto allo studio e anche la tenuta sociale. E poi le esperte, le scienziate, le professioniste, tutte le donne nelle filiere che non si sono fermate. Noi vogliamo che abbiano voce. Astag dateci voce nella costruzione e nell'immaginazione del futuro. Per la scuola in particolare, come in tutti i settori, nel futuro ho tre possibilità. Emergenza come adesso, ma dovremo rivedere e ripensare la DAD. Normalità, tutto come prima, ma nulla sarà come prima. E poi la carta pericolosa, la carta di mezzo, quella del distanziamento, quella della convivenza con il virus, con questo o con un'altra emergenza. Ebbene, in questa progettazione della carta di mezzo, le dirigenti scolastiche delle scuole primarie devono poter avere voce. Loro non ci sono nella task force del ministero, ma sono loro le esperte della politica del sistema integrato, delle emeense, del tempo pieno, di tutte quelle politiche che hanno consentito e che solo potranno consentire a tutte le donne che lavorano di non dover scegliere ancora e di nuovo tra figli e lavoro. Astag dateci voce, astag maestre. Grazie. Grazie.